Bisogna arrivarci con lo spirito giusto di una squadra che ha voglia di continuare sulle cose buone che sono state fatte e le molte che c'è da migliorare. È una partita insidiosa da non sottovalutare assolutamente, anche perché siamo nelle condizioni di non sottovalutare nessuno. E poi il termine sottovalutare non piace a prescindere. È una gara che nasconde insidie perché tutte le partite, se non sono affrontate con una determinazione e una giusta mentalità, ti possono mettere in difficoltà. E siccome noi ancora siamo indietro e nemmeno poco, bisogna cercare di fare un risultato importante e positivo a casa buona. Ecco, il suo processo di conoscenza di vista squadra e la sua squadra? Certo. No, io sono qua da una settimana, quindi abbiamo avuto di mezzo la partita di Coppa Italia, quindi anche dal punto di vista tattico abbiamo potuto fare poco, allenamenti molto differenziati. Però ho trovato grande disponibilità, quello sì, è già un buon punto di partenza. Però ancora dall'idea di calcio che piace a me siamo un po' lontani, quindi bisogna cercare di migliorare la continuità, bisogna cercare di migliorare l'equilibrio in campo e bisogna lavorare. Ho trovato, come ho detto prima, grande disponibilità. La partita di Ancona mi ha offerto anche dei spunti importanti da prendere in considerazione. Adesso abbiamo questi due giorni per preparare la gara di Savona e di mandare in campo la formazione migliore per poter cercare o perlomeno la formazione che inizialmente mi dà un pochino più di garanzie. Non è detto che poi sia la migliore perché quando si opta delle scelte e in questo momento qui ancora non c'è una piena conoscenza totale della rosa, quindi devo andare più a sensazioni, a vedere le cose che mi garantiscono determinate qualità. E come ho detto prima, è una gara che bisogna prendere con le molle perché è una squadra insidiosa. La classifica è bugiarda, io l'ho vista un paio di volte questa squadra, soprattutto in casa, è una squadra che ha ottime individualità, è una squadra giovane, di gamba. Noi bisognerà mettere in campo, come ho detto prima, grande determinazione e soprattutto cercare di nascondere qualche difetto che abbiamo e esaltare invece le qualità nostre. Dietro abbiamo l'opzione in questo momento qui, abbiamo l'opzione Daniele, Ficagna, Paramatti che è un ragazzo che secondo me ha margini di miglioramento enormi e lo stesso Silvestri che è un giocatore che può ricoprire un determinato ruolo. Adesso bisogna vedere, come ho detto prima, sono questi tre giorni, questi due seduti di allenamento, quindi queste 48 ore, ma io in questo momento qui non ho una formazione ben precisa e non ho nemmeno un'identità ben precisa. Io cerco di lavorare su dei concetti di squadra per poter esaltare le qualità di questa squadra, quindi bisogna trovare l'abito giusto in poche parole, però quello che chiedo è avere comunque quella disponibilità, quella determinazione, quell'attenzione che serve poi per fare il risultato la domenica. E lì bisogna lavorare, bisogna lavorare molto sulle motivazioni, sull'approccio alla partita, sul coraggio che bisogna avere. Invece la partita di L'Aquila, in parte anche quella di Ancona, ancora mi dice che, come ho detto prima, dall'idea di gioco che piace a me, ancora siamo un po' distanti, ma non avevo questa pretesa in poco più di una settimana di cambiare tutto e trovare la squadra. Di solito sono molto esigente con me stesso, quindi sono anche esigente con gli altri, però per poter far bene in questo campionato e per potersi aggrappare alle posizioni che contano bisogna cercare di rimettersi tutti in discussione e pedalare. Dopo la partita controllabile, disse oggi, contava il risultato perché mi avrebbe permesso di lavorare con continuità. Certo, assolutamente, lavorare sulle vittorie è molto meglio che lavorare sulle sconfitte. Questo non vuol dire, come ho detto prima, che sappiamo che noi siamo ancora indietro e quindi bisogna fare ancora un ulteriore passo in avanti per cercare di migliorare la qualità del gioco, l'equilibrio in campo, l'attenzione. E quindi sono cose che dobbiamo lavorare, ma lo sapevo e io di solito non è che mi esalto dopo una serie di risultati positivi e allo stesso tempo cerco sempre di avere anche l'equilibrio necessario quando le cose vanno meno bene. Adesso quando subentri e soprattutto la nostra squadra che è un pochino attardata in classifica bisogna cercare di ridurre quasi allo zero il margine d'errore. Emiliano si è allenato, ho chiaramente risparmiato un viaggio, una partita per poter recuperare meglio dalla gara che aveva fatto con l'Aquila, poi era uscito a ciaccato con la caviglia dove aveva rimediato una brutta botta. si è allenato, io credo molto in questo giocatore perché me lo ricordo come un giocatore importante e è chiaro che lui adesso ha bisogno, lui sa che comunque da parte mia e da parte della squadra c'è la grande fiducia in lui e lui deve tirare fuori quello che sa fare, cioè il gol. In questo momento qui è un ragazzo molto introverso, un ragazzo che ho conosciuto un giocatore magari da fuori me lo immaginavo caratterialmente ma questo non vuol dire che non è una nota positiva. Io come ho detto prima ho grande fiducia a lui quindi se sarà della partita dall'inizio, durante perché io in questo momento qui non ho un 11 base fisso, sarebbe anche piuttosto presuntuoso da parte mia avere un 11 base determinato e quindi è un giocatore importante, io ci punto perché i suoi gol per noi sono fondamentali. Mastro Nuzio si è allenato, si è aggregato ieri con noi, ha fatto una settimana con il preparatore atletico, quindi è un giocatore che abbiamo recuperato, chiaramente bisognerà vedere che tipo di minutaggio ha perché lui queste ultime due settimane si è allenato poco, però è un altro giocatore sul quale faccio grande affidamento e quindi io sarà che per natura sono ottimista ma ho grande fiducia in questi giocatori qua, è chiaro che da parte loro ci deve essere quella disponibilità totale per dare una mano alla squadra, per dare una mano allo spogliatoio. Come ho detto prima nella conferenza precedente dobbiamo mettere da parte la parola io in questo momento qua, quindi la squadra viene avanti a quello che ci abbiamo di personale, se mettiamo questo davanti abbiamo le possibilità per riaggangiarsi anche noi, se invece pensiamo al proprio orticello allora diventa più difficile ragionare da squadra. Io in questo momento qui non è che sono un integralista di moduli, io come ho detto prima cerco di mascherare qualche difetto che abbiamo perché comunque i risultati dicevano così, non erano risultati negativi ma insomma nemmeno risultati, è l'interpretazione del modulo che è importante, però in questo momento qui dobbiamo trovare degli equilibri e dei concetti, non posso permettermi di creare tanta confusione anche perché come ho detto prima questa è una rosa che è stata costruita per un determinato tipo di gioco, puoi giocare in un altro modo quando tutti stanno bene, in questo momento qui non tutti stanno bene, abbiamo, non c'è uniformità fisica perché qualcuno rientra dagli infortuni, qualcuno abbiamo in questo momento qui ho Piela che ha un problemino di infiammazione, quindi un giocatore che si allena corrente alternata, qualcuno rientra dagli infortuni, poi piccoli contrattempi che ci sono, per esempio Torelli stasettimana ha questo virus gastrointestinale che è febbricitante e speriamo di poterlo recuperare, insomma lui da Ancona è tornato con la febbre e quindi però sono problematiche che ci possono stare in una stagione, però l'importante è che adesso facciamo tutti un passo in avanti dal punto di vista tattico, atletico, mentale, di personalità per poter risalire la china, però come ho detto prima gli obiettivi è meglio raggiungerli che dichiararli, quindi partita per partita mettere sopra sempre una furia agonistica sportiva chiaramente, ma determinante e poi mettere la qualità al servizio della squadra, quello sì. Scusa, spero che sulla carta c'è la possibilità di fare sei punti prima della scuola e se metterò veramente fondamentale? No, adesso non voglio, io ora mi concentro solo su Savona, la gara di Savona come ho detto nasconde molto insidia e quindi io non mi fido, però voglio vedere una squadra che vuole fare il risultato, quello sì, l'approccio, la mentalità, l'attenzione, sono cose che pretendo, poi a volte si sbaglia dei gol, a volte c'è un errore tecnico, però dal punto di vista dell'approccio e della mentalità voglio una squadra che ragiona secondo come vedo io le cose, quindi c'è una gara di Savona che si è affrontata, come dico io abbiamo grandi possibilità di far bene, però se dopo lo facciamo solo a parole possiamo prendere anche di avere dei brutti sceffoni, quindi è bene pensare a questa gara qui, partita per partita, convinti, determinati, perché è una gara per noi importante, quello sì. Ci siamo? Buon.